24 dicembre 1979. La crisi politica in Afghanistan raggiunge il suo zenith. Dopo le richieste di aiuto da parte del leader afgano Karmal, le truppe sovietiche invaderanno, pochi giorni dopo, il paese asiatico. Per quasi dieci anni l'Afghanistan si trasformerà in un Vietnam russo. Alla fine dell'occupazione si conteranno non meno di 14.000 soldati russi morti e almeno mezzo milione di vittime fra gli afghani.